Bianco, gol, gol! Elisa Mele, che sapore hanno questi tre punti conquistati nella capitale? Sono tre punti importanti, pesano molto sul campionato soprattutto grazie al pareggio anche del Mozzanica. La Roma è una squadra che difende molto quindi non è facile fare gol subito, però noi siamo state brave perché abbiamo mantenuto la calma e anche se abbiamo sbloccato la partita verso la fine abbiamo fatto una discreta partita. Si può definire una prova di maturità da parte del Brescia questa vista anche l'emergenza? Sì, sì, siamo state brave, ripeto, non era facile ma ce l'abbiamo fatta quindi sì, una prova di maturità superata. Adesso ci sarà l'ostacolo Verona sabato prossimo in casa? È una partita difficile, anche lì cercheremo di dare il massimo perché da qua alla fine dobbiamo mettercela tutta. Grazie! A voi, ciao!